La pausa, facciamo una merendina, ma questa pausa però noi la diamo, seguiteci con le telecamere, seguiteci La diamo con il nostro duo, cioè con Alberto Calì, Tassiera e Luca Oto È ora di lavorare ragazzi! Siccome lui ha girato il mondo, dopo che è uscito lì dal carcere, allora a quel punto lì, è vero Praticamente lui sta girando il mondo e quindi ha voluto fare un mix di canzoni ungheresi, russi, napoletane Russo e napoletano, vai! Presentiamo il nostro duo! Alberto Calì e Luca Oti Il duo di mille voci! Oti! Il duo di mille voci! Il duo di mille voci! Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info